e via partiti in vantaggio Kundalini davanti a Dalia River Loving World, Mandy Dandy, Avienda e Sé nell'anima dopo 200 metri di corsa Dalia River e Kundalini conducono davanti a Mandy Dandy Loving World, Avienda e Sé nell'anima all'inizio della curva è in leggero vantaggio Dalia River davanti a Kundalini, Loving World, Mandy Dandy Sé nell'anima e Avienda poco prima dell'ingresso addirittura è sempre in leggero vantaggio Dalia River davanti a Kundalini, Mandy Dandy e Loving World i cavalli entrano in dirittura con Dalia River e Kundalini in vantaggio davanti a Mandy Dandy, Sé nell'anima, Avienda e Loving World passa Kundalini davanti a Mandy Dandy, Sé nell'anima Dalia River più staccati a Avienda e Loving World all'interno è Kundalini, all'esterno Mandy Dandy e Sé nell'anima in leggero vantaggio Mandy Dandy davanti a Sé nell'anima e Kundalini resiste Mandy Dandy davanti a Sé nell'anima Kundalini e Dalia River ha portato a curtoca da Andrea Grazie a tutti. Grazie a tutti.